Round round get around, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, I get around Get around, round, round, I get around, I get around Quella che comincia è una settimana importante per il Comune di Avellino dalle prossime ore, parte la sessione di bilancio che in seconda convocazione troverebbe i numeri per approvare il documento contabile 2017-2019 non prima di aver definito l'urticante ormai partita del Carlo Gesual, ovvero il voto sulla messa in liquidazione della istituzione che negli ultimi dieci anni ha guidato il teatro con i conti che non tornerebbero, i numeri che si conteranno alla fine di questi tre giorni che comincia sin dalle prossime ore, ci diranno con quale carico di difficoltà Paolo Foti porterà a termine la consigliatura prima delle elezioni comunali della prossima primavera, rispetto alle quali un po' tutti cominciano a guardare e ad organizzarsi di conseguenza. Due settimane fa è stata varata l'associazione Ossigeno che fa riferimento a Luca Cipriano, oggi tra i nuovi soggetti in cammino anche verso il primo ravvicinato appuntamento amministrativo dell'11 giugno prossimo, vedrà coinvolti 13 comuni della provincia di Avellino e beh c'è anche naturalmente un percorso già cominciato rispetto alle prossime elezioni che riguarderanno nel 2018 il comune di Avellino. Ecco, in provincia di Avellino c'è anche articolo 1, il Movimento dei Democratici e Progressisti nato dalla separazione con il Partito Democratico. Bentrovati, assenti chi parla e benvenuto a Francesco Todisco, neoeletto segretario provinciale di MDP, Movimento Democratici e Progressisti, articolo 1. Intanto vi state organizzando anche sul territorio provinciale, che tipo di sensazioni e di risposte nel frattempo state ottenendo? Ricordo che Francesco Todisco è stato appena eletto segretario provinciale appunto di MDP. Allora Francesco tu mi dirai che sta andando bene, che è... Io penso che c'è una difficoltà comune a tutti i soggetti politici oggi, è difficile parlare di politica alle persone e forse è complicato, come dire, chiedere alle persone di aderire ad un progetto politico. Molto complicato, anche se nel nostro caso c'è un entusiasmo alla base, che è quello di tanti militanti che avevano partecipato agli ultimi tesseramenti del Partito Democratico, con la consapevolezza che quei tesseramenti erano semplicemente degli elenchi da mettere a disposizione del Partito. Qui invece c'è l'entusiasmo di una ripartenza, di un modo diverso di far politica, di un tesseramento di persone che si guardano negli occhi e cercano di darsi una mano reciproca per il raggiungimento degli obiettivi comuni. Questa è la nostra, come dire, base di partenza. Poi naturalmente c'è una questione che riguarda tutte le forze politiche, che è quella della capacità di saper coinvolgere soggetti nuovi. E noi siamo consapevoli che possiamo coinvolgere soggetti nuovi se parliamo il linguaggio della sinistra, se parliamo il linguaggio di una sinistra che cerca di mettere insieme tutte quelle forze che hanno una visione progressista, di un'agenda progressista rispetto ai problemi del Paese e che non vuole militare una forza politica che si dice di sinistra, di centro-sinistra, ma che parla un linguaggio di centro-sinistra. Il sistema democratico parleremo tra poco. Intanto voi, diciamo, avete come interlocutori privilegiati, così le definite, le aggregazioni civiche e civili. Ma ci sono davvero aggregazioni civiche e civili anche in provincia di Avellino? Ma siamo consapevoli che, naturalmente questo riferimento guarda le amministrative che ci sono, siamo consapevoli che nelle piccole comunità è necessario mettere insieme delle forze che guardano al civismo, ma siamo allo stesso tempo consapevoli che soltanto il civismo, se non è orientato da obiettivi e da una visione politica, non porta a nessuna parte. Uno dei grandi limiti che è imputato alla gestione del Partito Democratico degli ultimi anni è che nelle piccole comunità, ma anche in comunità medio-grandi, si è guardato aggregazioni civiche soltanto per il raggiungimento della vittoria elettorale, mettendo insieme cose che insieme non potevano stare. E che alla lunga hanno mostrato anche la corda. Esatto, si è dimostrato un limite non soltanto rispetto al governo delle comunità locali, ma soprattutto rispetto alla visione degli enti sovracomunali, dove non è stato facile, anzi è stato impossibile, mettere insieme una visione omogenea rispetto a questi enti. Ecco, MDP dice che se il Partito Democratico non taglia i ponti con il passato sarà difficile, anzi è quasi certamente impossibile avviare un dialogo. Scherzando ma non troppo direi e traducendo quello che dicono nel PD, insomma nel PD dicono che i ponti con il passato sono stati tagliati con la vostra uscita dal PD, insomma il passato siete voi secondo il PD. Il punto è che loro hanno tagliato i ponti con un popolo di sinistra. Noi immaginiamo che il PD sia diventato, così com'è, così com'è si rinvigorisce anche alla luce delle ultime primarie per l'elezione del segretario nazionale, un oggettivo ostacolo alla costruzione del centro-sinistra in questo paese. Guardiamo con rispetto a una grande comunità che vede nel PD uno strumento per costruire il centro-sinistra in questo paese, consapevolezza che mi sembra mancare nel suo gruppo dirigente e nel suo vertice in Matteo Renzi. Se il PD dovesse scegliere di riprendere le strade, i percorsi di una costruzione di un centro-sinistra largo, diffuso, plurale, che coinvolga le migliori energie di questa visione del paese, noi non potremmo non dialogare con questa forza politica. Ciò vale anche ovviamente per i livelli per Avellino. Voi parlate, se ove questo non fosse possibile, voi dite di lavorare per costruire un centro-sinistra alternativo. Ora la politica deve avere lo sguardo lungo, ma non può non partire dallo stato dei fatti, dalla realtà. Questa cosa del centro-sinistra alternativo, anche in provincia di Avellino, insomma, è rimasta più un riferimento iconico che altro. Perché insistete, diciamo così, su una formula che non solo forse non ha soggetti per condensarla e sostanziarla, ma che insomma non... Abbiamo detto una cosa un po' diversa, che guardiamo a un'alternativa. Se il Partito Democratico guarda a mettere insieme soggetti politici che con la storia e con la visione del centro-sinistra non hanno nulla a che fare, a partire dal livello nazionale fino ad arrivare al livello locale, noi abbiamo come obiettivo quello di mettere insieme quelle forze che invece hanno la consapevolezza della necessità di un centro-sinistra e poi voglio vedere se questa operazione dovesse riuscire e come il Partito Democratico possa fare a meno di questa aggregazione. Ecco, voi offrite delle opportunità alla ripresa del dialogo con il Partito Democratico, ma c'è da prendere atto che nel Partito Democratico, da Roma in giù, il problema con chi è andato via se lo sopposti. C'è un problema serio insomma, tessere un dialogo, pensare comunque ad alleanze con chi è andato via. Insomma, mi pare che il Partito Democratico sia pure, diciamo così, in prevalenza, non tutto il Partito Democratico, ma in prevalenza il Partito Democratico pare che abbia ribadito che con voi i conti sono chiusi ormai. Noi ho seguito con rispetto il dibattito all'interno del Partito Democratico e devo dire che Matteo Renzi ha una visione completamente distante dalla nostra quando dice che lui predilige le alleanze con i cittadini piuttosto che con le forze politiche. Noi abbiamo un altro concetto della democrazia e della rappresentanza. Quando si dice che si preferisce l'alleanza con i cittadini e con il popolo, sostanzialmente si svilisce il contenuto della democrazia. Ma abbiamo guardato anche con preoccupazione al dibattito interno del Partito Democratico la esclusione di Gianni Cuperlo dalla direzione nazionale del Partito Democratico e un impoverimento non soltanto del dibattito all'interno del Partito Democratico, ma del dibattito pubblico nazionale. E se soggetti che hanno un pensiero critico come Gianni Cuperlo vengono lasciati fuori, c'è un problema che riguarda il nesso stesso fra il Partito Democratico e il suo gruppo dirigente e un popolo ampio che guarda all'aspirazione alla costruzione di un centro sinistra. Se questo problema, il gruppo dirigente del Partito Democratico non se lo pone, noi abbiamo il dovere di continuare a porcelo e lavoreremo nei modi consentiti per costruire un centro sinistra che sia, come dire, coerente con le aspirazioni del nostro popolo. Il Partito Democratico, dice Francesco Todisco, non si pone questo problema. In realtà se lo pone perché elegge con una larghissima maggioranza Matteo Renzi. Se lo pone nel senso che sceglie sceglie questa strada. Sceglie un'altra strada di una forza. Voglio dire, è un partito che ha scelto di stare, di essere questo e non altro. Io ho un'altra sensazione, io ho la sensazione di un accordo fra ceti notabilari locali che scelgono il cavallo che al momento può apparire vincente, ma che sono pronti alla prima possibilità, alla prima difficoltà, al primo ostacolo a scaricarlo. Io non sarei tanto felice nei panni di Matteo Renzi, a parte il fatto che i numeri delle primarie, come sono apparsi dopo il momento dell'esaltazione, sono un po' diversi. Matteo Renzi non aveva raggiunto il 70%, nelle regioni rosse c'è stato un calo dell'affluenza che assomiglia al 50%, c'è stato un calo rispetto alle primarie del 2013 di un milione di votanti, rispetto a precedenti primarie un calo ancora più vistoso. C'è un problema più complessivo che riguarda, come dire, il Partito Democratico. Matteo Renzi è stato eletto segretario, ma consentitemi di dire, è stato eletto in una versione molto, molto, molto ridotta rispetto alle aspettative che inizialmente aveva generato. Parliamo di Avellino, chi sono i vostri interlocutori, dando, non dico per scontato, dando per difficile la possibilità di un dialogo in vista delle elezioni comunali dell'anno prossimo. Intanto chi sono i vostri interlocutori? Abbiamo parlato di Ossigeno, per esempio, Luca Cipriano. Chiunque voglia residere con chiarezza, con nettezza, in maniera nitida i rapporti col passato del rapporto del Partito Democratico con questa città, un rapporto che non è mai nato perché il Partito Democratico non si è mai posto veramente, fino in fondo, i nodi e le questioni di questa città. Riguardo associazioni come Ossigeno, mi fa un po' specie il dibattito che si è creato in città, è un dibattito di bassa lega, di rancore, di accuse reciproche. Vanno guardate con rispetto tutte le associazioni che pongono una progettualità rispetto ai problemi della città, sapendo che ci sono dei nodi anche in quell'associazione non risorti rispetto al fatto che, ad esempio, il suo ispiratore è stato un candidato delle liste a sostegno di Paolo Foti. Tutti gli interlocutori che decideranno di residere i rapporti con questo passato del Partito Democratico in città e che abbiano una visione naturalmente omogenea di centrosinistra, sono dei naturali interlocutori. Insomma, con Luca Cipriano si discute se esce dal PD. Mi pare una condizione un po' non propriamente politica o dialogata. Con Luca Cipriano, ma la questione non è soltanto. A parte che, se devo essere sincero, non so neanche se Luca Cipriano sia fra gli iscritti del Partito Democratico, perché c'è una, come dire, una poca chiarezza rispetto agli ultimi anni di tesseramento del Partito Democratico. Ma a parte questo, il punto non è se si aderisce o non si aderisce al Partito Democratico, cosa che noi guardiamo con rispetto, perché fa parte. Se si sceglie di rompere rispetto al governo di questa città degli ultimi 15 anni. Ecco, Paolo Foti ha detto che non si candida, lo ha detto nei mesi scorsi, lo ha fatto capire, lo ha ufficializzato di recente. Sareste disponibili a primarie aperte dentro un soggetto politico del centro-sinistra? Chiaramente sì. Se ci fosse la, come dire, la consapevolezza, la decisione da parte del gruppo dirigente del Partito Democratico di abbandonare il percorso che è stato intrapreso negli ultimi 15 anni, con un rinnovamento dei soggetti che vanno a sostegno delle liste del centro-sinistra, con l'esclusione dei protagonisti di questi 15 anni di lavoro, di governo della città, con una chiarezza negli obiettivi da porsi rispetto alle grandi questioni della città urbanistica. Trasparenza e nuovo assetto delle società partecipate, trasparenza e nuovo assetto nel governo del welfare urbano, chiarezza di intenti rispetto all'area vasta, quella che loro chiamano area vasta, ma che da ora in poi secondo me andrebbe chiamata area urbana, perché noi abbiamo bisogno di ragionare di Avellino come grande città e non soltanto nei confini burocratici di questa città. Se questo non sarà possibile, che cosa farete? Presenterete un candidato sindaco? Lavorerete a una lista che metta insieme anche altri pezzi della sinistra, penso all'Excel, la sinistra italiana oggi, quello che c'è di rifondazione. Lavoreremo a sollecitare. E un po' però andare a cercare con l'anternino. Lavoreremo a sollecitare non soltanto l'energia che si muovono all'interno del centro-sinistra in questa città, ma anche l'energia del civismo, dell'associazionismo, cioè quell'Avellino che non è appare e che non si è affidata a questo governo della città. Questa è una città ricca di potenzialità, a sua insaputa, all'insaputa della sua classe dirigente. Se si vuole in qualche modo perseguire il bene di questa comunità c'è bisogno di sollecitare questa energia. Ovviamente noi lo faremo, ma con una visione politicamente ben orientata. Ecco, la vostra uscita dal Partito Democratico di fatto apre, diciamo così, non un problema, apre una nuova realtà all'interno della sinistra più diffusa, più generalmente intesa. Con sinistra italiana, ex SEL, insomma, che c'è? Competizione, confronto? Pensate di ritrovarvi insieme in unico... perché poi, insomma, i cittadini fanno fatica a distinguere una sinistra molto piccola e molto divisa. L'articolo 1 non nasce con l'obiettivo di essere l'ennesima sigla del centro-sinistra. L'articolo 1 nasce con l'aspirazione di mettere insieme ed aggregare tutte le forze che vogliono rappresentare il popolo della sinistra in nostro paese. C'è confronto con sinistra italiana, c'è un rapporto ormai quasi formalizzato a livello nazionale con Pisapia. I sondaggi ci dicono che Pisapia, articolo 1, se vanno insieme, esprimono più delle loro singole potenzialità e si avvicinano al 10% dei consensi. Noi aspiriamo ad andare anche oltre questa soglia mettendo insieme queste forze, non rinunciando a dialogare con tutti quei soggetti che hanno dato ancora fiducia al Partito Democratico, ma che sono rimasti delusi anche da queste ultime vicende, come l'esclusione di Gianni Cuperlo dalla direzione nazionale, come prendere atto, che hanno preso atto per l'ennesima volta, che le primarie tutto sommato non sono state uno strumento di confronto vero fra visioni all'interno del Partito Democratico, ma uno strumento un po' farlocco per consentire al Principino che era rimasto deluso dalle ultime vicende nazionali di prendersi un po' di rivalsa. Probabilmente lo strumento delle primarie è quello che è, ha molti limiti. Io ho molto rispetto dello strumento delle primarie, quando si tratta di selezionare... Saranno pure un milione in meno, ma sono un milione e 800 mila persone che sono andate a votare, insomma il PD è l'unico partito fermo restando tutto quello che c'è sotto questo strumento, ma insomma... Il punto vero, io ho un enorme rispetto dello strumento delle primarie quando esso è finalizzato a scegliere classe dirigente amministrativa del Paese, figure apicali, sindaco, presidente della giunta regionale, presidente del governo, i candidati a queste cariche. Quando si tratta di scegliere il segretario di un partito è assurdo, è una contraddizione in termini che il segretario del partito sia scelto, non da chi ci mette giorno dopo giorno la faccia per quel partito, ma da soggetti che sono estranei a quel corpo politico, condizionando la linea politica... L'impegnativa morale che con le primarie aperte si assume l'elettore non basterebbe. Ma non c'è neanche un'anagrafe. Chi va a votare per le primarie aperte sottoscrive un impegno di condividere i valori del partito. Può tranquillamente il giorno dopo votare Forza Italia, votare la Lega. Sì, certamente. E perché un soggetto politico di quel tipo non può avere l'obiettivo di condizionare la vita interna di un altro partito? Ma che roba è? Un'assurdità. Che caratteristiche, che identikit dovrebbe avere il prossimo sindaco di Avellino? Naturalmente a cominciare da ciò che anche Francesco ha detto, cioè qualcuno, che non abbia, non scheletri nell'armadio, ma che non abbia nulla a che vedere e a che fare con il passato recente e meno recente di questa città. Sareste disponibili a sostenere una figura che intorno a sé riaggreghi un progetto, un'anima della città, per ricordare Antonio Di Nullo? Appunto, un soggetto che abbia una visione di questa città, che la senta profondamente, che ne senta profondamente i bisogni, i disagi di questa comunità, che provi a interpretarli, a rappresentarli e provi a costruire risposte. Un soggetto che non si chiuda nelle polemiche della maggioranza e che non si chiuda dentro quel palazzo, un soggetto che sappia rappresentare quel nesso che è sempre stato fondamentale nei grandi momenti di riscossa civile di questa città, tra l'intelligenza della città, nelle sue varie forme, nelle sue varie rappresentazioni, e il popolo di questa città. Se non c'è un soggetto capace di rappresentare questa nesso e questa sintesi, questa città non fa passi in avanti. Ecco, ci fosse voi e la vostra lista, anche perché qui poi la politica va sfumando e poi il candidato sindaco che discute e si confronta con i potenziali alleati, quindi ci sarebbe qualche scoglio in meno dal punto di vista politico, perché non dovreste, diciamo così, misurarvi direttamente con il Partito Democratico, per esempio, ma con il candidato sindaco. Guardi, io in questo momento, una domanda che mi poneva, ho pensato non solo a Antonio Di Nenno, che naturalmente è stato un grande sindaco della città, ma anche un altro grande sindaco della città, tutte e due residenti dalle parti di Corsa Europa, a Nacchettino e a Rijemma. E perché ho pensato a Nacchettino e a Rijemma? Perché è il contesto politico di dialogo fra forze politiche che in quel momento erano anche assai distanti, come la democrazia cristiana e il Partito Comunista, è stato quell'area di dialogo, di, come dire, di confronto sulle visioni di città, che ha consentito una figura di grandissimo spessore intellettuale e politico, come Nacchettino e Rijemma, di poter essere sindaco di questa città. Se manca questo confronto, se manca questa capacità della ricerca, della sintesi, fra forze anche distanti, ma che cercano di farsi carico del bene della città, è difficile che nascono soggetti di quella levatura. Bisogna capire come questa nuova fase, che si è già aperta in vista delle elezioni del 2018, verrà interpretata, si ricordava Nacchettino e Rijemma, e beh, allora in quella fase la politica si pose, anche a livello amministrativo, il problema di uno stretto, ravvicinato confronto con il mondo comunista e con gli intellettuali della sinistra di questa città. Legano le riforme urbanistiche di Federico Biondi. Antonio Di Nunno ha rappresentato un'altra fase, quella del fuggi-fuggi generale, dopo Tangentopoli, la democrazia cristiana diventata già qualcos'altro partito popolare, che in massa andava verso Forza Italia e Di Nunno seppe interpretare questa fase. Che nome, che aggettivo, quale egida è possibile già dare alla fase che comunque si è aperta e che avrà un momento di verifica importante con le elezioni di Avellino l'anno prossimo? Non le so dire. Il mio sogno è questo, rivedere quella scena del comizio fatto da Antonio Di Nunno durante il primo ballottaggio a Via dei Concili, alla presenza di vari leader nazionali, tra cui a Vertroni, e io assistivo da giovani militanti della sinistra giovanile, dalle scale del liceo che frequentavo, che era il liceo Mancini, a questo grande momento di identificazione forte da parte di un popolo di centrosinistra con i bisogni di questa città. E lì Antonio Di Nunno vinse facendo i nomi della giunta, nomi di grandissimo spessore. Fu uno dei momenti più belli della storia amministrativa e politica di questa città. Io immagino che un clima politico di quel tipo, di quella capacità di ricerca di sintesi fra forze politiche e di capacità di sapersi medesimare con i problemi e i bisogni di questa città, possano far nascere non soltanto figure come Antonio Di Nunno, ma una classe dirigente diffusa per la città che sappia farsi carico della situazione difficile che Avellino sta affrontando. In qualche modo si potrebbe ricordare e forse riproporre un po' la colonna sonora di quella campagna elettorale che era la canzone popolare di Ivano Fossati. Non so come dire se questo risulterebbe utile e comunque resterebbe ed è una... Posso dire una cosa? Le grandi stagioni della città, delle città di Avellino, sono nate anche con grandi stagioni politiche. Lì c'era la stagione dell'Ulivo che è stata una grande come dire intuizione per il paese che poi ha conosciuto purtroppo per altre ragioni la sua conclusione. Noi dovremmo andare a riprendere quello spirito a livello nazionale, un po' il desiderio di tanti militanti che hanno deciso di fare questa scelta di articolo 1 che aiuta anche le città a dare una risposta politica mettendo insieme il meglio dell'energia civica. Bene, Francesco Todisco, in bocca al lupo, buon lavoro e seguiremo insomma l'evolversi della situazione, le attività del movimento dei democratici e progressisti di articolo 1, insomma staremo a vedere. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie ai Francesco Todisco, naturalmente ai colleghi che hanno lavorato con me a questa puntata di Senti chi parla e naturalmente a voi che avete voluto seguirci da casa. Nel frattempo buon inizio di settimana a tutti voi, arrivederci. Grazie a tutti, grazie a tutti.